Questo è il comparatore che deve andare a zero l'asta, a 1.500 giri io devo, al massimo, devo avere 8 mm di l'asta, che se voi facciamo, lo riguarda, se lo riguarda il contrario, in 1.500 giri. Allora, partiamo da zero, che sono 8 mm. 8 mm ti basta, io devo avere da 38 a 42 mm. Grazie a tutti.